Ti piacciono gli stili delle moto, quindi Superpartys ha diciamo il tipo di moto che guidi te, però che ne so, per capirci una Harley Davidson ha uno stile di moto Hai delle preferenze al riguardo? Sì, allora, per esempio io ho mio fratello minore che incomincia a correre con la moto da cross, quindi io a differenza di tanti miei colleghi che corrono nella velocità e si allenano da anni costantemente nel cross Io mi incomincio a cimentare con la moto da cross da pochi mesi e quindi posso fare un paragone con il cross Che è uno sport che è sempre molto impegnativo, tecnico, difficilissimo, però non mi dà quelle emozioni, quell'adrenalina che può darti la velocità È un qualcosa che è indiscrivibile se non si è mai provato prima, però io a distanza di anni, ormai sono 12 anni che corro in moto Io ho un aneddoto che racconto sempre, però fa capire bene la situazione Per quanta adrenalina un pilota può provare in corsa la domenica, io la domenica sera quando sono tornato a casa a distanza di 12 anni faccio ancora fatica a addormentarmi Per tutta l'adrenalina che è un circolo È un piacere Sì, è un piacere e ti dico che è una dipendenza Perché nel periodo invernale, quando ovviamente l'attività motociclistica è ridotta ai minimi termini, ti mancano proprio quelle emozioni Senti proprio un bisogno fisico di provarle Addirittura, sì sì Qual è secondo te la miglior cilindrata per la guida di una moto? Questa è una domanda generale Sì, allora, io ho corso anche in Coppa del Mondo Superstock 1000 Quindi a differenza delle moto nella quale corro ora, ho corso con moto di cilindrata 1000 E quindi molto più potenti E senza sombra di dubbio quando esci da una curva e sprigioni tutta la potenza di una 1000 Parliamo di 180, 190 cavalli È più emozionante di correre con una 600 Però per contro con una 600 riesci ad andare molto più forte in curva Che non puoi fare con una 1000 perché sei costretto per la fisica ad essere più lento a centro curva Quindi diciamo è un pochino differente in base alla cilindrata e alla potenza Però è ugualmente una goduria Finché c'è piega c'è speranza Ma ti piace sfidare in qualche modo la fisica, per ammetto di dire, in una piega? O la gravità? La gravità vince sempre Diciamo che ogni qualvolta che un pilota cerca di dare qualcosa in più E il più delle volte è consapevole che sta dando più di quello che potrebbe o dovrebbe Più di quello che sono le tue capacità Ti ritrovi in terra 9 volte su 10 Se sei fortunato vai forte e stai in piedi Ma nella maggior parte dei casi ti ritrovi in terra Quindi per questo ti dicevo prima che è uno sport che va vissuto con massima lucidità e concentrazione Perché qualsiasi errore ti ritrovi in terra e la paghi cara Immagino È importante comunque osare? Osare? Sì Sì Perché tra i vari fattori Sì, osare sì è importante È importante saper dosare Il fatto di osare e essere lucidi e concentrati Questo sulla carta è l'ideale Però nella storia del motociclismo ci sono piloti differenti Gli esperti di motociclismo Ma gli appassionati di motociclismo in genere Conoscono tutti Kevin Svans e Owen Rene Che sono due grandi piloti della 500 Che era la classe regina degli anni 90 E sono gli attuali Che so Valentino Rossi e Pedrosa Valentino Rossi e Lorenzo E avevano due modi di guidare totalmente differenti Kevin Svans che osava sempre e comunque Era istintivo e intuitivo Era uno spettacolo per il pubblico vederlo E spesso e volentieri Spesso e volte era per terra Infatti Collezioni in corpo più placche e viti Che qualsiasi altro pilota Owen Rene Era un pilota meticoloso Era un pilota che ragionava di più Era un pilota che cadeva di meno Aveva una guida pulita Mentre Svans aveva una guida nervosa Quindi diciamo Si possono sposare più personalità Basta come si è Certo È importante che ci sia antagonismo tra i piloti Cioè se c'è Beh sai Te corri Io corro Voglio essere superiore a te Guarda Ti direi una bugia Se ti dicessi che C'è amicizia tra i piloti Non c'è Non c'è È una rarità È una rarità O magari c'è falsità Che nel paddock Ci si saluta Ciao come stai Come non stai Che problemi hai Ma in realtà Chiusa la visiera Non guarda in faccia nessuno Qual è il numero della tua moto? Il 154 da una vita Come mai? Perché Mio padre Ha fatto qualche gara Amatorialmente Da giovane In moto È lui che mi ha trasmesso Questa passione E quindi io sono cresciuto In camera Con il poster di mio padre Con una Kawasaki 500 tre cilindri Una foto in bianco e nero Del 75 Che bello Sì A Vallelunga Che è un circuito Vicino Roma E aveva questo 54 Che gli avevano Assegnato Casualmente Allora io appena ho potuto Avevo fatto domanda Per utilizzare il 54 Era già occupato E mi hanno assegnato Casualmente Il 154 Ho vinto Subito al Mugello Con quel numero E da allora Sono ormai dieci anni Utilizzo questo numero Questo numero Ale Racing Team Me ne parli? Ale Racing Team E' l'associazione sportiva Che segue e gestisce La mia attività sportiva Sin dagli inizi E Ale sta per Alessandro Che era mio fratello Che è venuto a mancare Ormai da 15 anni Ok E il box Quindi il paddock Giusto? Sì E' come una I box sono una cosa Il paddock è un'altra Chiedo scusa E' come una Cuccia Per il pilota? No No Allora L'equilibrio La cuccia per un pilota E' il proprio motorhome Il proprio camper La propria roulotte Cioè il luogo dove Tu hai finito il tuo turno Di prove libere Di prove econometrate Tu ti rifugi Nel tuo piccolo spazio Dove puoi riposare Concentrarti Pensare Agli errori Che hai fatto nel turno precedente A come Approcerai la tattica di gara E quindi Quel tuo piccolo spazio Dove ti rifugi Dalla confusione Del paddock Che pensi Dei talenti sprecati? Ce ne sono Abizzeffi Di talenti Veri 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 Che sono Andati sprecati Per un motivo O per l'altro Il più grande esempio Di talento sprecato È un pilota australiano Anthony Gobert Che io scusa Ancora verde la roccia A bravo È un pilota australiano Anthony Gobert Che corria con i capelli Viola Verdi Era un eclettico Che ha già 19 anni Ai primissimi esordi Vinceva Nelle gare Del campionato Del mondo Superbike Poi E quindi Si prospettava Davanti Un futuro Ancora più roseo Di quello Che magari Si sarebbe prospettato Valentino Rossi Però dopo Ha incominciato Quindi a A straviziare Per capirci E quindi È stato licenziato Da tutti i team Con il quale Ha corso Negli anni a venire E ha smesso Da giovanissimo Sprecando un talento Che forse È Tutti i passati Di motocirchismo Lo possono dire È uno dei più grandi talenti Che Che la storia Hai ambizioni Personali Nel motociclismo Oddio Ho i piedi per terra Ho 28 anni Quindi diciamo che Non è che posso Propriamente sfondare Nel motociclismo Un obiettivo Realistico È Vincere il campionato italiano Non sono mai riuscito A primeggiare Con costanza A causa Di mancanza Di moto O team O budget Che sono tutte Queste variabili Che devono Eserci tutte Contemporaneamente E quindi Sono riuscito A primeggiare A gettoni Certo È importante No scusa Non è importante È Emozionante Il podio Lino nazionale Di fronte Di fronte Di fronte a tutte Queste persone Sì Quello è stato Veramente Veramente Emozionante Sì Hai un sito internet Si Ricordamolo Almeno lo scrivo Adesso Qui Che si vede Sullo schermo Dimmi Eccolo Eccolo Si chiama Tommaso Lorenzetti Punto it Ok Grazie Allora Siamo giunti Alla fine Di questo momento Io ti ringrazio Da morire Piacere mio Vai Dirti di andare piano È una suddita Ti auguro Tante belle cose Grazie Buona carriera Buon divertimento E Buone corse Grazie Ricordo A tutti i canali Youtube Che è Youtube.com Slash Deportparlay Andate In macchina Andate In moto Di un sito Piano 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 Senza Dare Partiti Agli altri Di nuovo Ciao Piano Piano fagami, temi fagami, che utilizzano per la segnalizzazione della traccia. Tommaso Lorenzetti принимает pozdravления. Krog почета, конечно же, è il suo честь. No e noi anche, in свою очередь, поздравляem Tommaso. Nusbolo a parlare, che in questo caso, non so che non sono regolari 3 etapa, non tutti i piloti qui заявili su regolari. Tommaso Lorenzetti заявilse, vimali po wildcard. E si va a prendere l'occasione, e se va a prendere l'occasione, e in Germania, noi vediamo, che è solo in Москвe. E se vediamo итогi dei protocoli di questa gondola. Lorenzetti, emili, roma, conizzaro. Conizzaro aboglava mani, ci. E' a che mi radova conizzaro, il 4-4 mese. Tibaldi, Fazzanello, Altamonte, Ferre, Dugge. Dugge è 10-a posizione. E' un'e non italiani qui è in top 10. D'alto 2, e mi augusta, è cavalli e carcini, vala, Antoniolli, davidov na 15-a posizione ha 1 occhio in copilità. Ivan gorev za nim. Brosh, Degrutolo, Ligabu e Marni. Mirko Marni zamakai pilota. E' a che la e che la la gondola è in la questa è una storia Tomasso Lorenzetti. Il non riceveva 25 occhi in copia, che gli aiutano gli aiutano per l'escrizione di questo senso. Il non riceveva il risultato, non riceveva il risultato, ma non riceveva i risultati, che gli aiutano per l'escrizione per l'escrizione per l'escrizione. che è venuto in questa gondola. Quindi speriamo che i Tommaso Rincetti, i Miti Emili, i Manicci, i altri piloti, tutti i nostri spiegati in Москвe. A noi vediamo che qui Romano come si accadrà e chiede i suoi sopreni, chiede i tessi, che hanno avuto l'esplosione per l'esplosione. Miti Emili è rastroito, però è stato constatato questo fatto. Il errore, che si è spostato con i propri proprii, Grazie. e abbiamo detto che siamo in Italia in italiano, in ralda, in ralda, in ralda, in ralda, in ralda 2013 il suo lavoro, Sam Loos anche avreste il giro il giro per 2 il giro, Miettie Emile, io penso, come il professionale, il pilota, il pilota, che voglio essere un'e dei tanti, che voglio essere un'euro super sport, è stato un'euro, è stato un'euro e un'euro, è stato un'euro proprio da parte, è stato un'euro e, e, Tommaso Lorenzetti Tommaso Lorenzetti è una grande победa in questa gontra показывает che non c'è 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 e l'italiano non c'è che non c'è che non c'è che non c'è che non c'è Grazie.